Vogliamo ringraziarvi perché tutti insieme stiamo crescendo. Iscriviti al canale, è gratuito. E se vuoi sostenerci, abbonati. La tua amicizia è preziosa per noi. Ciao a tutti, sono Fabio Grimaldi e questo è il mio terzo video per la rubrica La via della sensualità, rubrica che potete trovare sul canale YouTube della libreria esoterica Cavour di Perugia. Nel video precedente vi ho parlato di obiettivi evolutivi e ho cercato di mostrarvi qual è la differenza tra gli obiettivi evolutivi maschili e quelli femminili. Per fare un breve riassunto, il maschio quando è un adolescente entra in un periodo di completa demenza e quindi il suo compito è quello di abbandonare questo stato di demenza per iniziare a proseguire un percorso che lo porti alla saggezza, alla maturità. Invece per le femmine il percorso è l'opposto. Le ragazze quando sono adolescenti sono degli angeli incarnati e quindi il loro compito sarà quello di cercare di mantenere il più a lungo possibile quelle qualità che le caratterizzano da adolescenti e perché no magari anche svilupparle. Ora adesso passo passo dopo passo inizieremo a vedere come poter raggiungere questi obiettivi evolutivi, come realizzarli nella vita di tutti i giorni. Innanzitutto dobbiamo sempre tenere presente che oggi stiamo attraversando un periodo di cambiamento. Abbiamo trascorso duemila anni di un'era maschile caratterizzata fortemente dall'energia maschile e adesso siamo passati non era che sarà caratterizzata la dell'energia femminile. Per questo motivo Matrix ha organizzato la sua trappola proprio sul mondo del femminile. Cosa ha fatto in pratica? Sta cercando di giorno dopo giorno farci abituare gradualmente a convivere, a apprezzare, a integrare nella nostra vita un femminile artefatto, manipolato, svilitto nei contenuti. Un femminile che non è un vero femminile anche se viene spacciato per tale, è più un maschile all'ottava bassa che viene spacciato per femminile della nuova era. Per cercare di evitare di cadere in questa trappola abbiamo a disposizione l'insegnamento a sostenerci. L'unica cosa è che essendoci cambiato, essendo cambiate le energie dominanti che ci sono sul pianeta, anche il paradigma in cui, i paradigmi attraverso cui viene divulgato l'insegnamento devono cambiare. L'insegnamento si deve, le modalità di divulgazione dell'insegnamento devono adeguarsi ai tempi. Quindi il punto cardine sarà quello di cercare di fare integrare nelle nostre vite il femminile, di tornare a convivere in maniera serena con il femminile. Inoltre bisognerà differenziare anche un po' il modo di insegnare ai maschi e alle femmine, perché i maschi hanno una modalità di apprendimento, una modalità di approccio all'esistenza completamente diversa solitamente dalle femmine. I maschi sono più mentali, utilizzano la mente razionale per cercare di comprendere qualcosa. Invece le femmine sono più emotive, sono più istintive e quindi essendo in un periodo femminile dobbiamo iniziare a tenere presente questa distinzione, a tenere molto più presente la nostra parte istintiva, la nostra parte emotiva, invece che solo tenere presente la parte razionale degli esseri umani. Allora, il percorso inizio sarà identico per entrambi i sessi. Bisognerà cercare di capire, di studiare la personalità, i meccanismi che la regolano e le leggi che la governano. In particolar modo cercare di focalizzare la nostra attenzione su l'imparare a autoosservarci, in particolar modo osservare la mente e le emozioni, perché in un momento di tale caoticità come quello che stiamo vivendo ora, c'è tantissima spazzatura nel nostro campo mentale, c'è tantissima spazzatura nel nostro campo emotivo in cui siamo immersi. Quindi sarà molto importante iniziare a vedere e capire ciò che è nostro e ciò che non c'è a partire e iniziare a differenziarci, a distaccarci da questi pensieri e da queste emozioni basse. Se volete approfondire l'argomento vi consiglio di guardare i video di Federico Cimaroli che trovate anche loro su questo canale YouTube. Durante questi video Federico spiega perfettamente e approfonditamente questo argomento riesce a farci vedere esattamente cosa accade all'interno della nostra mente, come gli esseri umani si approcciano alla materia emotiva e mentale più bassa e come si devono approcciare per riuscire a iniziare a interagire con la materia emotiva più alta. Allora ho detto che ci sarà da fare questo lavoro di introduzione per entrambi i sessi, poi dopo le vie divergono però. Allora iniziamo a vedere i maschi. Per esperienza diretta i maschi semplicemente imparando a autoosservarsi non possono andare da nessuna parte. Non si può pensare che solo attraverso l'autoosservazione un giorno macicalmente un maschio si apra, inizia a percepire il mondo dell'anima intorno a lui, che inizia a percepire, escluso quelle manifestazioni molto grossolane, percepire le differenze quando le persone con cui si rapporta sono nel mondo di Matrix o sono o stanno esprimendo dei valori dell'anima, in particolar modo quei valori che possono essere riconducibili al mondo femminile. Il mondo femminile per noi maschi è un universo sconosciuto, anzi come viene detta l'altra metà dell'universo che per noi è sconosciuta e talvolta è incomprensibile, anzi spesso e volontieri non è solo incomprensibile, è qualcosa a cui noi non riusciamo a approcciarci perché emozioni come la fiducia nell'esistenza, l'ingenuità, la spontaneità, la generosità non sempre sono ben accette dentro di noi perché noi siamo più portati verso una mentalità della sopravvivenza. Quindi per un maschio smuoversi da queste condizioni a cui noi siamo abituati è molto difficile perché non conosciamo l'altro universo, non sappiamo le sue caratteristiche e soprattutto non sappiamo trarre beneficio da queste caratteristiche, non riusciamo a vedere i benefici che possiamo ottenere adottando queste caratteristiche, queste qualità animiche. Quindi a noi maschi servirà qualcuno che innanzitutto non semplicemente che ci esprima i concetti a livello mentale ma che ce li faccia sentire, cioè che ci faccia iniziare a riconoscere le emozioni superiori nel mondo esterno. Poi ci servirà qualcuno che ce le faccia toccare, che ce le faccia sperimentare in prima persona, che ce le faccia vivere dentro la nostra carne e infine come ultimo passaggio servirà anche qualcuno che ci aiuti a viverle consapevolmente. Solo così potremmo iniziare a dischiuderci a questo nuovo mondo perché il condizionamento, ma poi lo vedremo quando faremo il video sull'imprinting, il condizionamento è così profondo che per noi maschi, lo ripeto, è veramente difficile potercene liberare. Prendiamo per esempio l'ingenuità. Nella nostra società l'ingenuo è una persona che viene considerato uno sproveduto, uno stupido, un tontolone, un qualcuno di cui ci si può facilmente approfittare. Beh, forse sul piano materiale un ingenuo è anche qualcuno di più facilmente circuibile, ma da un punto di vista spirituale, da un punto di vista interiore, l'ingenuo invece è una persona estremamente ricca, è una persona soprattutto estremamente centrata perché quando guarda il mondo esterno non vede solo il fine, il fine materiale, ma inizia, ha sempre la tendenza a focalizzarsi sul mondo dell'anima, cioè su cercare di percepire per esempio l'amicizia, l'affetto, mettere amore, mettere entusiasmo in ciò che fa. Non è una semplice ricerca del fine, fine materiale. Non so se mi spiego. C'è la ricerca del fine materiale, ma al tempo stesso c'è questa persona che dietro a quello che vede cerca sempre di trovare il mondo dell'anima. Infatti l'ingenuità è la capacità di vedere con occhi nuovi il mondo, cioè è la capacità di percepire l'anima ogni giorno nel mondo che ci circonda e questa qualità è una fonte di bellezza incredibile, può farci accedere a fonti di bellezza incredibili. Ovviamente l'ingenuo non è semplice, non è un tontolone che, come si può dire, un qualcuno che può essere, che non impara mai dei propri errori, che può, che non si protegge mai da ciò che gli succede intorno, può imparare dei propri errori, può capire come funziona il mondo, può iniziare a proteggersi, dire dei no, ma senza perdere la propria spontaneità, senza diventare una persona diffidente, una persona calcolatrice, una persona fredda, una persona distaccata, può proteggersi, distaccarsi dal mondo esterno, ma senza perdere quelle qualità caratteristiche che fanno parte del suo essere. Perché nel momento in cui una persona perde di ingenuità, smette di cercare di vedere sempre qualcosa di nuovo nel mondo esterno, smette di cercare di trovare la bellezza nel mondo esterno, allora questa persona esce dal mondo dell'anima e il mondo della personalità lo fagocita e quindi si lascia completamente andare al mondo di Matrix e inizia ad avere come riferimento non più la bellezza, ma i valori di Matrix, che sono dei valori basati sulla competitività e sulla sopravvivenza ad ogni costo. Quindi quando si vive in questa situazione, con questo sentimento dentro, un sentimento di sopravvivenza, inevitabilmente la paura entrerà a far parte della nostra quotidianità e la paura diventerà un sentimento accettabile, necessario per proteggersi e anche comprensibile, perché di fuori c'è un mondo cattivo che ci sta minacciando. Allora tutti quanti noi, in particolar modo le femmine, quando iniziamo adottare una modalità di vita che si basa sulla sopravvivenza e quindi una modalità di vita impregnata di paura, cosa succede? Succede che perdiamo la nostra bellezza, perdiamo il nostro fuoco, perdiamo la nostra volontà, la nostra forza, la nostra capacità di agire e piano piano ci lasciamo andare, ci appiattiamo, diventiamo innocui e soprattutto diventiamo un perfetto meccanismo, un perfetto ingranaggio di un meccanismo schiavizzante. Allora, per i maschi cosa c'è da fare? Innanzitutto c'è da iniziare a imparare a osservare la propria mente e stabilire e creare un punto di osservazione interno molto forte, su questo non c'è dubbio, ma poi gli sforzi devono essere indirizzati verso l'individuazione di ciò che appartiene al maschile all'ottava bassa, che è dentro di noi, cioè tutti quegli aspetti del maschile all'ottava bassa, che ci precludono di vedere l'esistenza con occhi nuovi, che ci precludono di entrare nel mondo dell'anima, nel mondo dell'abbondanza, nel mondo della bellezza, ci precludono di vedere la bellezza che ci circonda e quindi di crescere, di nutrirci interiormente. Contemporaneamente però è necessaria che ogni maschio venga educato alla sensualità, come sono stato educato io, cioè bisogna fare come fanno i genitori con i neonati, indicare il nome delle varie emozioni, degli aspetti dell'esistenza a delle persone che non lo conoscono o che comunque hanno molta confusione dentro la loro testa, proprio come un genitore fa col neonato, quello è un albero, quello è una luce, quello è un bicchiere, papà, mamma, i propri nomi. E lo stesso bisogna fare con le emozioni superiori, come Massimo, la mia guida spirituale, come Massimo ha fatto con me. Andavamo in giro per strada, andavamo nei mercati, guardavamo una ragazza e lui mi diceva guarda quella ragazza come sorride, quella è compassione, guarda quella persona come è ringraziato, quella è generosità, guarda quella ragazza come cammina, quella ragazza è piena di malizia. Insomma, riuscire a educarci al mondo femminile, ovviamente anche attraverso sforzi mentali, perché è la mente il nostro punto di partenza per scoprire il mondo per noi maschi. Infine, bisogna fare un ulteriore passo, che è quello più difficile secondo me, per la mia esperienza personale, che è quello di iniziare a convivere con le emozioni superiori. Allora, quando si entra a contatto con un'emozione superiore molto forte e ci si lascia andare a questa emozione superiore, il nostro mondo interiore viene completamente scombussolato, perdiamo il controllo sia di ciò che ci accade dentro che di ciò che ci accade fuori. In pratica la mente perde il controllo, non sappiamo più cosa sta succedendo, è come se finalmente riusciamo a respirare ma abbiamo paura di quello che sta succedendo. Io ho capito che era veramente difficile potermi nutrire e poter rimanere in un'emozione superiore i primi tempi che frequentavo Massimo. Mi ricordo che per un capodanno tailandese eravamo andati nel nord della Thailandia, nel paesino dove era un paesino rurale, sperduto nel nord-est della Thailandia, il paese dove è nata la compagna Cook, la compagna di Massimo. Mi ricordo che ci aveva portato a tutti i costi a vedere una cerimonia in un tempio buddista. Loro dentro i templi hanno anche i cimiteri e i loro cimiteri non sono fatti come i nostri, ma se non ho capito male sono tutto intorno i muri che circondano il tempio, dentro questi muri ci sono le ceneri del defunto e davanti c'è applicata una piccola targa con delle scritte in tailandese che non erano per me incomprensibili. Nel passeggiare lungo i muri del tempio, perché stavamo uscendo, ce ne stavamo tornando a casa, ci siamo imbattuti nelle tombe della famiglia di Cook e Cook ci ha spiegato cosa rappresentavano queste tombe, chi c'era seppellito, qual era lo spirito che si trovava dentro quelle tombe e nel raccontarci questa cosa ha iniziato a commuoversi. E più parlava, più la sua commozione aumentava, ma è aumentata talmente tanto che è esploso in un pianto, perché era triste di sapere che la sua famiglia, a cui lei voleva così bene, non poteva avere una tomba decente, non poteva avere una tomba bella dove poter riposare, ma semplicemente una fissione sul muro, una fissione che tutti potevano avere. Bene, quando lei è scoppiata a piangere, anch'io stavo per scoppiare a piangere, ma allora cosa ho fatto? Mi sono allontanato perché non potevo farmi vedere che piangevo per una stupidata del genere e immediatamente, osservandomi, mi sono reso conto che stavano arrivando i primi pensieri. Allora ho iniziato a pensare, sì ma sta donna non sta piangendo perché è veramente triste, perché ci tiene veramente alle persone che sono seppellite dentro questi muri, che in teoria riposano dentro questi muri. È triste perché non ha i soldi per potersi permettere una tomba più grande. È triste perché non può dimostrare alla sua famiglia, a tutto il vicinato, di quanto lei ce l'abbia fatta nel mondo, invece gli altri no. Bene, mi dite il senso di questi pensieri? La mente tremenda ha cercato in ogni modo di farmi abbassare in maniera netta e molto, ed estrema potrei dire, la vibrazione che stavo vivendo utilizzando il giudizio. Cioè io mi sono sorpreso che mi ero messo interiormente a giudicare Cook perché non riuscivo a sopportare la sua commozione, perché stavo per piangere, perché stavo per perdere il controllo. Vedete la mente come ha dei meccanismi di difesa, difesa della sua sopravvivenza, per mantenere il controllo sull'apparato psicofisico? Incredibili! Agiscono in maniera immediata e siamo talmente abituati a vivere con questi meccanismi che non ce ne rendiamo conto. Quindi assistere a un'emozione superiore, a un'esternazione di commozione, come in quel caso, così forte, è un pericolo per noi. Ma al tempo stesso, se iniziamo a riconoscerle prima di tutto, secondo luogo a sostenerle e magari anche a nutrircene, noi uomini avremo finalmente quell'appiglio a cui aggrapparci nei momenti di difficoltà. La cosa più bella che mi sia mai capitata mentre assistevo a una di queste esplosioni di gioia di vivere, perché è quello, è l'anima che butta fuori, che fa esplodere tutta la sua gioia per essere incarnata. Non è un semplice pianto, è proprio gioia esistenziale, gioia di essere incarnati nel mondo terrestre. La cosa più incredibile che mi sia mai capitata è stata quella di riuscire a guardare il mondo attraverso gli occhi di una donna. Un attimo, eh? Allora, perché guardare il mondo attraverso gli occhi di una donna ti sconvolge la vita. Mi sono reso immediatamente conto, è stata una cosa che è durata pochi secondi e mi è capitata raramente, devo dire la verità, però tutto un tratto la vita inizia ad avere molto più senso rispetto a prima e cambia. Da quel momento lì non si torna più indietro. Mi ricordo che proprio avevo iniziato, in questi piccoli frangenti, avevo iniziato a a percepire il mondo in maniera diversa. Tutto era più calmo, più tranquillo, più caldo anche, sentivo proprio calore dentro di me e la mia prospettiva, cioè il mio, la mia possibilità, come si può dire, il mio campo visivo si era ampliato tremendamente, si era allargato, si era innalzato, vedevo in maniera più ampia, non vedevo più dritto e basta, vedevo tutto quello che mi circondava. I colori erano più più caldi, più nitidi, più vivi e soprattutto c'era una cosa che mi ha sconvolto, è stato che i contorni degli oggetti erano molto meno definiti rispetto al normale. Vedevo come se ci fosse che non ci fosse più spazio tra le cose, che non ci fosse più questo contorno, ma che tutto era mischiato, che tutto armoniosamente confluiva, una cosa confluiva dentro l'altra. E tra l'altro pensandoci avrei dovuto provare, tra virgolette, paura, perché stavo perdendo il controllo, non capivo cosa mi stava succedendo. Invece sarà stato l'ambiente, perché mi è sempre capitato quando ero in Thailandia, sarà stata la ragazza che avevo accanto, che me lo faceva provare, che mi poteva far entrare in quello stato di coscienza molto facilmente, perché era una cosa eccezionale, una persona eccezionale. Ma era come se a posto che entrare nel panico fosse entrato, cioè calmo, va tutto bene, tutto tranquillo, scorre tutto, la vita sta scorrendo, respira, fermati che va tutto bene. Non c'erano più quei buchi, quel vuoto che costantemente si ripropone in noi maschi, quel vuoto esistenziale che deve essere colmato in qualche modo. Non c'era più, era tutto pieno, tutto ricco, molto più ricco del normale. Erano pochi secondi, ve l'ho descritto come se fossero passate delle ore, ma la percezione mia era stata proprio quella. E poi se queste cose qua avvengono, come ho avuto io la fortuna, di vivere in maniera consapevole, perché mi rendevo conto proprio di quello che stava succedendo, allora cercare delle fonti di femminile autentico, di femminile ancora pieno di fuoco, diventa l'unica ragione di vita. Per forza bisogna cercare una fonte di femminile a cui abbeverarsi, perché altrimenti tutto perde il significato. Allora, dopo quel momento, e come ho detto non si torna più indietro, il modo di guardare l'esistenza, soprattutto il modo di guardare le donne, cambia completamente. Ovviamente, se ti rendi conto che tu avevi vissuto una vita così, quando invece c'era una vita così a disposizione, tu avevi visto tanto così dell'esistenza, quando invece c'era tutto quanto, c'era tutta questa tranquillità, tutto il mio continuare a combattere, lottare, fare, brigare, disfare, quando invece c'era tutto a disposizione, bastava guardarsi intorno. Ovviamente non riesco a vivere sfortunatamente con lo stato, con continuità, però quei pochi secondi sono bastati per iniziare ad approcciarmi al mondo femminile in maniera completamente diversa. Da quel momento basta scenati di gelosia, basta tentativi di castrare la propria compagna, basta focalizzarsi sulle incomprensioni, ma al posto che pensare che sia un'incomprensione possa qualcosa che non si è capito, qualcosa che per noi non ha senso, inizia a diventare qualcosa di nuovo da imparare. La voglia di scoprire rinasce, perché non c'è niente di più bello che riscoprire, che scoprire il femminile, che scoprire l'altra metà del nostro universo. Tanto noi di maschile, di come siamo fatti dentro, lo sappiamo, e lì non è che c'è molto da vedere. Caspita di là c'è diecimila film da potersi guardare, diecimila film che comunicano diecimila cose completamente diverse. Ci rendiamo conto proprio che bisogna cambiare approccio verso le donne. Noi uomini, se vogliamo avere una speranza di maturare, una speranza di diventare un po' più saggi, non possiamo fare altro che dipendere da loro. Per lo meno nel mio caso è quello. Io dipendo completamente da una femmina per poter migliorare il mio stato di coscienza. So che è l'unica mia via per uscire dallo stato di pochezza in cui sono immerso, vivendo qua in Italia per esempio, vivendo molto in solitudine, da quello stato di addormentamento in cui mi ritrovo, verso la bellezza del mondo, perché mi basta, so che quando esco con una ragazza, mi basta fare attenzione a loro dove mettono loro gli occhi, un po' meno con continuità rispetto a prima, sfortunatamente. La mia giornata cambia da così a così. Quindi io sono assolutamente certo di quello che sto dicendo, è che l'unica mia possibilità per affacciarmi sul mondo dell'anima, anche perché sul mondo materiale, la mia porta sul mondo materiale c'è stata, è stata mia mamma, ma la porta che ho per affacciarmi sul mondo dell'anima, mi può essere aperta solo tramite una donna. Io da solo non ce la posso fare. È così importante per noi uomini essere circondati da fonti di femminile, ma femminile è più autentico, più, voglio utilizzare questa parola qua che vedremo poi in un prossimo video, vergine, puro, possibile. E noi siamo lì, se capiamo questa cosa, allora possiamo iniziare a proteggere le donne da Matrix, possiamo iniziare a posto che rabbia, a posto che indecisione possiamo iniziare a essere fermi e comprensivi nel parlare con le donne, riuscire a dare la parola giusta al momento giusto. Perché innanzitutto è uno scambio reciproco, il secondo perché non abbiamo più quell'impazienza verso la femmina, perché sappiamo che il loro universo è completamente diverso dal nostro e sappiamo però altresì che il loro universo è l'unica cosa che ci è utile per uscire dal nostro stato di rimbambimento, per poter vivere una vita che si può definire tale, perché senza una donna con certe qualità non si può vivere una vita che si può definire vita, perlomeno questo è capitato per me. Ovviamente ci sono tantissime altre modi di potersi arricchire, c'è l'arte, ci sono le opere di beneficenza, c'è tantissime, c'è la generosità, ci sono tantissime cose, ma senza una donna che ci dà quello stimolo, senza una donna che ci fa scattare quella scintilla, noi siamo bloccati, non potremo mai distaccarci dal mondo di Matrix. Allora, vedete, è importantissimo anche per le femmine fare un lavoro su di sé per proteggere questi valori, questi valori dell'anima che hanno dentro, questi valori a cui noi uomini ci dobbiamo, di cui ci dobbiamo nutrire, perché se non ci nutriamo non ne capiamo l'importanza e li continueremo a distruggere. Allora, per le ragazze cosa c'è da fare? Partiamo dalle ragazze e quelle giovani. Per le ragazze giovani c'è da insegnare che quali sono effettivamente le loro reali qualità, che sono ben diverse da quelle che Instagram, che Facebook, che i social media gli comunicano. Bisogna fargli presente qual è la loro vera bellezza, bisogna fargli presente cosa andranno incontro negli anni a venire, come verranno attaccate, dove verranno attaccate nel mondo di Matrix, cosa gli succederà se abbandoneranno la loro naturalezza, se abbandoneranno la loro spontaneità, se abbandoneranno la loro vera identità. E cosa gli succederà se entreranno nel mondo di Matrix e per dei facili riconoscimenti sociali, di poco conto tra l'altro, metteranno in disparte la loro bellezza, la loro naturalezza per adottare dei comportamenti innaturali, non consoni per la loro natura. Dopo aver spiegato queste cose, un altro passo importante, forse quello ancora più importante in questo momento per le ragazze, è quello di spiegargli cos'è la sofferenza. Mettere le mani avanti e dirgli che comunque in futuro soffrirà. Ci sarà una parte della nostra personalità che verrà attaccata e che quindi ci farà soffrire, ma che al tempo stesso quelle qualità come il perdono, come la compassione, come la comprensione, come l'ascolto, come il silenzio, come la capacità di stare da sole, la propria ricchezza interiore, sono tutti degli strumenti a cui si può fare riferimento nel corso degli anni. Deve tenerseli lì, deve vederli ogni giorno nella sua vita, quando perdona, ogni giorno deve ricordarsi di essere capace di perdonare, di essere capace di ascoltare e prendere la forza che c'è dietro il perdono, che c'è dietro la compassione e utilizzarla nel giorno in cui dovrà affrontare la sofferenza e capire che la sofferenza, per quanto mi rendo conto anche sulla mia pelle, che non è facile in questo momento qua, qua siamo bombardati, stiamo vivendo un periodo di guerra, un periodo folle, di follia totale e quindi per quanta sofferenza ci sarà, la sofferenza è comunque un qualcosa che ci può aiutare a evolvere, un qualcosa che ci può fare aiutare la nostra capacità di percepire la bellezza esteriormente, ma anche di aumentare la nostra bellezza interiore. Poi troviamo le donne quelle un po' più avanti degli anni, quelle che hanno già avuto a che fare con Matrix da tanto tempo, quelle che hanno già sperimentato la sofferenza, quelle che hanno già sperimentato le imposizioni castranti della società. Per queste donne, ora io ho 38 anni, non è che posso dare incredibili consigli alle persone più avanti negli anni, però mi rendo conto che capita sempre più spesso che ragazze anche molto più giovani di me abbandonino quello stato di bellezza, scusate, quello stato di serenità interiore, quello stato di tranquillità che le caratterizza quando hanno 16, 17, 18, 20 anni. Lo vedo sempre in ragazze sempre più giovani. Se quando io avevo 25 anni tutte quante erano più o meno ancora spenserate, adesso a 25 anni le ragazze vedo che sentono la pressione, vedo che hanno cambiato la loro postura, che non è più eretta e elegante come prima, ma è un po' più ingobbita, un po' più inarcata, proprio per questo peso che la società ci mette addosso. Le rughe, vedo che iniziano a spuntare le rughe un po' prima, che non sono rughe dovute al sorriso, ma sono rughe dovute alla preoccupazione, al giudizio. Bene, io l'unico consiglio che posso dare a una donna, nella mia età o anche più avanti negli anni, o che comunque ha iniziato a sentirsi, utilizziamo questa parola qua un po' forte, ma spiega bene quello che voglio dire, violentata dal mondo esterno, che nonostante tutta questa violenza si può ancora fare affidamento sul proprio respiro, si può ancora fare affidamento su quelle qualità, sul perdono, sulla comprensione, su quelle qualità che ho elencato prima, che si può affrontare il mondo, che si può riattualizzare quelle qualità in ogni momento, basta solo averne la volontà. si può iniziare a vivere la vita di tutti i giorni vedendola un po' più come un gioco, vedendola più, comportandosi in maniera un po' più giocosa, gioiosa, cercando di mettere un po' più di spontaneità, un po' più di felicità nell'azione della vita, nelle azioni della vita di tutti i giorni, anche se si ha delle grosse responsabilità, le responsabilità sul lavoro, verso i figli, verso il finanzato, tutte le responsabilità che ci dicono che noi abbiamo, che magari molte non ne abbiamo neanche, si può anche iniziare a affrontare la vita in maniera più giocosa, senza dover per forza prendere tutto come lo prendono i maschi, come se fosse una lotta per la sopravvivenza. Iniziamo a guardarci, voi donne, iniziate a guardarvi quanto di maschile c'è dentro di voi, quanto di maschile ha attaccato, quanto di maschile, maschile all'ottava bassa, proponete, utilizzate nella vita di tutti i giorni, è un esercizio fondamentale questo, iniziate subito da domani, anzi da quando avete finito il video, cercate di capire quando siete voi, quando vi sta scorrendo la vostra vita, la vostra esistenza, o quando state cercando di sopravvivere, o quando sentite che avete bisogno di sopravvivere, quando sentite che siete nella scarsità, dentro di voi avete un mondo così ricco che non c'è bisogno di sentire, basta che fate riferimento a quello che eravate quando ero ragazzine. Lo so che non ci sarà nessuno che vi capisce, anzi vi prenderanno tutte per pazze, perché io quando sorrido, quando cammino per la strada e sorrido le persone, mi prendono per uno squilibrato, dicono ma questo cosa vuole? Ma fa niente, tornate a sorridere, tornate a far vedere le gambe, che abbiamo bisogno di vedere delle belle cose, abbiamo bisogno di nutrirci della bellezza. Ovviamente detto così può sembrare un po' squallido magari, ma è il maschile che fa pensare che questa cosa sia squallida, anzi è una cosa bellissima. La divulgazione dell'insegnamento deve cambiare completamente i canoni, l'importanza di far vedere le gambe, l'importanza del sorriso, l'importanza di avere dei capelli belli, lucidi, una pelle lucida, della proprio emanare lucentezza dal proprio viso, sarà il fondamento del lavoro su di sé del domani. Però è molto difficile divulgare questa cosa, ci sono tantissimi condizionamenti in printing che bisogna superare e soprattutto con estrema umiltà e come si può dire, va bene, con estrema umiltà ci sono pochi divulgatori che tengono presente questa cosa, che hanno anche la possibilità di parlare di queste cose, di poter riuscire a farti individuare, a farti toccare il mondo femminile nella vita di tutti i giorni. Io mi ricordo molto bene nel lontano 2011, 2012, insomma non avevo ancora né abbracciato Amma né avevo ancora iniziato il mio percorso con Massimo, avevo partecipato a una conferenza che era stata bellissima, c'erano due relatori che si alternavano e ognuno parlava delle proprie cose, ovviamente una conferenza sul lavoro, su di sé. A un certo punto uno di questi due relatori, a cui io voglio un bene dell'anima, dice se qualcuno entrasse da quella porta là in fondo e venisse qua a arrestarmi, qualcuno di voi avrebbe il coraggio di opporsi? Dopo un secondo di silenzio dal fondo della stanza si sente, io. La stanza ha iniziato a vibrare, anche se non capivo niente a quei tempi, avevo sentito, avevo percepito chiaramente che era successo qualcosa. Questo io era stato pronunciato da una ragazza, che io sapevo che era innamorata di questo, follemente innamorata di questo conferenziere, che con tutta la, con forza, coraggio, con tutto se stesso, tutto il suo amore, aveva pronunciato quelle parole, quella parola. E vi posso dire che anche ai tempi mi ero reso conto che quella parola aveva comunicato di più che tutte le parole di questi due conferenzieri che erano state espresse durante la giornata. Ovviamente questo conferenziere si era reso conto di quello che era successo, perché le aveva fatto un sorriso di complicità verso questa ragazza, però aveva lasciato cadere. Ma invece, adesso come adesso, bisognerebbe fermare tutto, smettere di parlare di qualsiasi altra cosa e cercare di far percepire, far capire ai presenti cosa è successo in quella frazione di secondo. Perché tu cosa puoi parlare del, non lo so, della legge dello specchio a una ragazza innamorata? Che una ragazza innamorata non sa neanche cos'è il giudizio. Cosa vai a parlare a una ragazza innamorata? Cos'è la centratura? Che per lei il suo amato è qui davanti ai suoi occhi, H24, da quando va a aprire gli occhi, fin quando li chiude e forse anche mentre dorme. Cosa gli si va a dire a una ragazza del genere innamorata così, con quelle qualità? Perché sicuramente aveva delle qualità questa ragazza. Come si diventa un guerriero di luce che ha cento volte più la forza e il coraggio di qualsiasi uomo che c'era dentro quella stanza, me compreso ovviamente. Cosa gli si può dire a questa ragazza qua? Non si può dire niente, sa già tutto. Bisogna solo far capire agli altri quello che è successo e a lei fargli capire quanto è bella. Ma non tanto perché lei abbia bisogno di sentirsi dire che è bella, perché fondamentalmente voi donne, se vi guardate dentro, non è che avete così tanto bisogno di noi uomini. Avete bisogno di sentire che noi uomini vi diciamo che siamo, che siete belle, che siete importanti, perché voi sapete che noi abbiamo bisogno di schiuderci un nuovo mondo, perché sapete che voi vi dovete occupare della nostra stupidità e quindi di farci entrare, di iniziare a farci vedere qualcosa in questo mondo. Ne avete, ne abbiamo, fate finta di averne bisogno, perché per voi non c'è, non per voi, per tutte le donne che ancora vivono completamente o una parte di loro vive ancora nel femminile, quello autentico, quello puro, quello vergine, non c'è niente di più bello, non c'è niente che vi renda più felice, non c'è niente che vi possa nutrire di più che vedere il vostro uomo felice, che vedere il vostro uomo sorridere, che vedere il vostro uomo esprimere se stesso in una maniera decente. Grazie, alla prossima, ciao ciao. Ciao.